Ciao amici, vi aspetto venerdì 15 marzo a Cortona per celebrare tutti gli atleti che si sono contraddistinti a livello nazionale, ovviamente anche tutte le società sportive e le persone che consentono di fare sport a Cortona. Ma non soltanto, perché per vincere ci vuole una squadra, ci vuole un team e a Cortona ce ne sono tantissimi. Dal campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino a Roberta Vinci, tra le migliori teniste italiane di sempre, e poi Francesca Cesarini, campionessa mondiale di Poldense e vincitrice d'Italia's Got Talent 2023. Questi alcuni dei big di Cortona e le sue stelle, manifestazione per la valorizzazione dello sport locale. Poi abbiamo anche la nostra stella nascente del nuoto, che è Lisa Angiolini della Virtus Buon Convento, che si è classificata proprio due giorni fa per entrare a far parte delle Olimpiadi di Parigi 2024, e l'immancabile Michele Santucci, grande nuotatore cortonese, che ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012. Dopo la pandemia c'è bisogno di tornare a fare attività sportiva sempre di più. I nostri ragazzi devono essere attratti dalle varie associazioni sportive che abbiamo nel territorio, che sono di eccellenza e che ci sono impianti molto importanti dove l'amministrazione comunale investe. Lo scopo della serata è quello di valorizzare atleti e società che negli ultimi due anni hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. La serata si snoda con più parti e verranno valorizzati i nostri atleti cortonesi, ma anche le associazioni sportive, le associazioni di volontariato che rendono sempre possibili i nostri eventi in sicurezza. È importante che accanto al momento celebrativo ci sia anche un momento informativo e formativo delle associazioni sportive del territorio. Come CONI abbiamo la struttura della Scuola Regionale dello Sport, sarà presente il Vice Presidente, il Dottor Roberto Bresci, che farà una relazione sul momento attuale, sullo stato dell'arte e della riforma dello sport, e quindi darà questo tipo di informazione e di formazione alle società sportive presenti. Grazie.